Abbiamo ormai delle opportunità tecnologiche che vanno dai sistemi di monitoraggio in continuo ai pancasi ibridi artificiali che risultano fondamentali non solo nel permettere un miglioramento del controllo glicemico ma anche soprattutto nel prevenire le complicanze ma anche nel migliorare la qualità di vita delle persone con diabete. Ormai le evidenze scientifiche sono solide nel dimostrare che questi strumenti danno un'efficacia a noi il compito di far sì che vengano utilizzati in modo appropriato formando i professionisti che gravitano nell'ambito del diabete e delle tecnologie ed educando le persone con diabete al corretto utilizzo di questi strumenti perché diano il massimo delle loro potenzialità.